Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Allora c'è una novità, o per meglio dire un cambiamento totale al canale Come vi avevo detto in un video precedente, se vi ricordate Non è che la passione per Youtube è passata del tutto, più che la passione c'è sempre Più che altro è passata anche un po' la voglia di fare gameplay freddi Ovvero stare davanti a una webcam mentre gioca qualcosa Registrando qualche partita, magari bella, magari meno bella Che intrattiene, che non intrattiene, comunque buttarci gameplay Che non ho più tanta voglia di fare, semplicemente come avevo detto un tempo E quindi una volta per tutte mi sono deciso proprio a cambiare completamente il canale Portando un nuovo tipo di contenuti Il canale cambia, si rivoluziona, il tema rimane sempre lo stesso Ovvero i videogiochi, però diventa un canale puramente di streaming, puramente di live Dove tutte le sere dal lunedì al sabato, domenica esclusa, dalle 8 alle 10 mi trovate in live Compre live a partire dalle ore 7 Quindi già dalle ore 7 voi potrete già collegarvi ed attendere, ci sarà il countdown Per la live appunto delle 8 In questo canale farò soltanto streaming Però continuerò a fare video Non farò più video di gameplay, quindi serie o gameplay con commentare normale Però farò vlog E farò speciali sui videogiochi Quindi non mi vedrete più fare video dove gioco al videogioco Ma vi ci farò uno speciale Ovviamente lo speciale potrà anche avere una parte di gameplay al suo interno Però sarà più descrivervi il gioco Parlarvi del gioco Fare anche un vlog dove appunto parliamo di videogiochi Quindi nel canale troverete vlog Troverete speciali sul mondo di videogiochi Di giochi in uscita, di giochi che ci piacciono di più Anche Q&A dove ci confrontiamo Cerchiamo di capire, no? Farci domande, risposte Se il gioco merita, non merita Quando uscirà, quando non uscirà la beta E tutto quello che gira intorno al mondo dei videogiochi Però il canale al 90% diventa un canale di live Tutte le sere, tutte Poi ragazzi, se una volta uno si sente male Ha degli impegni come ieri sera E quant'altro Ve lo comunico su Facebook E su Telegram Che trovate in descrizione Quindi se volete sapere se Sarò sempre in live Però se è una sera manco Prima di arrivare e non trovare niente Magari seguite social O, come vi ho detto anticipatamente Ci sarà la pre-live Che inizierà dalle 7 Quindi se dalle 7 non vedete la pre-live Vuol dire che quella sera la live non ci sarà Però nel 90% dei casi A parte, ve l'ho detto Cause di forza maggiori e impegni Vedrò di farle tutte le sere Dal lunedì al sabato compresi Dalle 8 alle 10 Trattando di videogiochi Che mi va di trattare Ma comunque che Ben o male ho sempre portato sul canale Vedremo Battlefield Vedremo Battlefront Vedremo The Division Vedremo Venerdì 13 Vedremo Aiden Shriek Vedremo tantissimi giochi In uscita Di quelli che ovviamente mi piacciono Quindi ragazzi Se questo cambiamento Non vi dovesse piacere Lo capisco Nessuno vi forza a seguirmi Se mi seguite Io ne sono contentissimo come sempre Se non mi volete seguire ragazzi Nessuno vi forza Ovviamente Non posso dire niente Mi dispiace Però questo è quello che mi sento di fare Inutile che io continui a fare Una cosa di cui non ho più voglia Se invece mi volete continuare a seguire Dalle 8 alle 10 Tutte le sere qui Vi aspetto ragazzi E Tratteremo Ve l'ho detto Ben o male I stessi giochi Sempre datato Magari ci butteremo dentro Anche qualche survival Qualche volta Però Tratterò unicamente Dei giochi che ho voglia Nel momento di trattare Non mi abbasserò più a fare giochi Soltanto fatti per fare visual E che proprio non ho più voglia di giocare Che sapete bene quali sono Che poi magari un giorno Mi potrà anche tornare alla voglia Di rifarle Ma al momento Non ce l'ho E non ve li porto Perché se no sarebbe una live di due ore Dove mi rompo coglioni E faccio tutta tiravia Ragazzi Questo diventa un canale di streaming Ma Ci troverete ancora video Video di gameplay Ne potrò fare uno ogni tanto Ma non ce ne troverete più Perché non mi piace più I giochi Li voglio trattare In tutta altra maniera Fuori appunto Dalle live Dove siano speciali Vlog O Q&A Ragazzi Se il cambiamento al canale vi piace Io ne sono contentissimo Se non vi piace È brutto a dirsi così Non voglio fare lo sbruffone O lo stronzo Però Se non mi volete seguire Non mi seguite Togliete l'iscrizione al canale Però ragazzi È quello che mi sento di fare E quelli che davvero Mi seguono E ci tengono a me Capiranno Insomma spero Ragazzi Ci vediamo Già a partire da stasera Come tutte le sere In live Alle 8 Qui Su questo canale Oh fate l'ora a prendere bene Ciao belli Pff Grazie a tutti